Giovedì 26 settembre non mancate la serata esclusiva VIP con degustazione di vini e cena con Albano Carrisi presso Plaza Volare. A Cellino San Marco, in onore del padre Don Carmelo, Albano ha creato l'azienda vitivinicola tenute Albano Carrisi. Tra i vigneti e gli olivetti del Salento, il cantante ha costruito una grande tenuta in cui cresce la propria famiglia patriarcale, produce vini definiti tra i migliori al mondo. Giovedì 26 settembre a cena con Albano.